musica 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 palla dentro non può sbagliare the magician o come si pronuncia 1 a 0 all star e cing fra mocio dica finta di devita che rimette in gioco sorbo per sorrentino la risposta di capuano conclusione di sasso arriva cananzi contro melucci scarica l'indietro verso pane che carica il destro sarti non la tiene e poi in due tempi conclusione di canazzi mentre si parlava dell'ingaggio dello stipendio e conclusione bellissima di canazzi poi ancora da sorrentino sorrentino col destro parla che termina all'altro si chiama liberatore sorrentino sorrentino il palo poi sorbo aviani contro capuano sorrentino 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 a pescaglia sorrentino gooo sorrentino 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 facci facci sognare ecco ci parla paraviani palo clamoroso a chi è a chi a chi è a chi a chi non passa nada bello bello ma Mario Sorrentino eccolo 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 Sorrentino 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 e go go lasu di Mario Sorrenti giocatori d'esperienza facci un paio grande break di Capaldi poi Fabio Sa occhio eeeh te l'assaggio e salti dormire clamorosamente ah ma tu ne hai capito che è successo a ieri Mario era anche un secco oh ma attenzione sorbo mamma che schifo che f***o c'è la muttana fatta bene ma che stanno fatta uno Mario a 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 che buccia guarda trinchetta è bussata la darece cazzo non l'ho preso non l'ho preso sorrentino migliore in campo della stravittoria degli all star contro i black angels da segnalare un gran gol da parte tua con il sinistro dopo un elastico brasiliano commentato anche in maniera un po' esilarante dal commentatore una vittoria che vi porta sempre più in alto in classifica dicci due parole su questa partita si è stata una partita inizialmente combattuta che facevamo un po' troppe cose inutili no troppe cose inutili però alla fine appena abbiamo deciso di segnare siamo andati bene abbiamo ingranato ecco dal punto di vista della classifica come ho detto questa vittoria vi lanciano come già eravate sui piani alti dopo diciamo un primo quadro generale avete visto un po' anche le altre squadre dove pensi si possa arrivare con questo organico? si può vincere il torneo mamma mia l'ha detto attenzione potrebbero mettere in difficoltà soprattutto per elementi del genere però ci giochiamo le nostre carte speriamo e pensiamo di un cittadino va bene alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti